Con il passare dei giorni credo sempre meno in Dio e sempre più neilutesse. Il mio potere abbizzisce e i rimorsi fioriscono. È tutto perché mio padre mi ha deluso. Quando ho capito a che punto fossi, era troppo tardi per fermarmi. Ma c'è ancora una possibilità di redenzione per entrambi. Ecco l'interruttore. Ciò che ho fatto non può essere cancellato. Non posso fermare ciò che ho avviato. Ma forse posso impedire che inizi del tutto. Lui era la mia prima speranza. Ora è la mia ultima. Ora potrò andare di sotto e raggiungere Elizabeth. Spaccategli i crani! Sengato. Sengato. Dio! Vi ho amato. Ehi! Questa è morte certa! Noi, io sono qui per finire il lavoro di mio padre. Tu mi hai bacchettato quel lato! Questa è morta? Cosa? Sì! Non c'è scappo! Il battesimo è la rinascita dello spirito. Ma qualche volta la mente diventa un ostacolo. Se la mente non cede, bisogna esporla a ogni versione di se stessa. A quel punto... ...o cedi. Non mancherò nulla. Fuoco! Fuoco! Domani il guinzaglio sparirà, perché tutto questo deve finire. Ma anche distruggendo il sifone, sarà forte abbastanza da vedere tutte le porte e aprire quella che voglio. E se lo portassi qui, chi può dire se sarà in grado di affrontare i mostri che ho creato? Cosa? Uno squarcio? Cosa? Perché chiedi cosa? Quando la domanda è quando? Vive, visse, vivrà. Muore, morì, morirà. Come vedi, Booker? Sono i pazzi a gestire il manicone. Non mi ascoltano nemmeno più. Non posso fare altro che guardare. Mentre ciò che ho innescato raggiunge lo stadio terminale. Ho usato tutto quello che avevo per portarti qui. Elizabeth, non capisco. Ti ho sentita urlare. Stavo... stavo venendo a salvarti. Siamo... Ecco. Prendi la mia mano. Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Vuoi dire quello che vuoi di Comstock. Era un indovino coi fiocchi. Non è stata la tortura a piegarmi. E nemmeno l'indottrinamento. È stato il tempo. E il tempo fa marcire tutto, Booker. Anche la speranza. Stavo venendo. Sonberg. Ti ferma sempre. Sì, ma avrei trovato un modo. No. È troppo tardi per me. Ti ho portato qui per il tuo bene. Il tuo e il suo. Ecco. Che cos'è questo? È per lei. Saprà come fare a leggerlo. Che cosa dice? Sono consigli. Consigli su cosa? Su come non diventare bene. Sono tornato. 1912. Prima che lei... C'è ancora tempo. Elizabeth! Poi tu, è di sopra. Se diventi irritabile, usate le macchine. Comstock! Cosa le stai facendo? Lascialo stare! Come definire il tuo intervento? Troppo poco e troppo tardi. Devo entrare là dentro. Forse se spegnessi quelle macchine dal piano di sopra. Non posso stringermi a te. Non posso stare e lo fai con il mio cavo. Non loけれmo. Hai cor hätte le macchine di sopra. Non si ascriva. Hai mai avuto su questa ricetta del processo. Il suo. Non mancheresti di quando ti dico che lo sarà. È scappato! Devo ricaricare! Perfetto! 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 Aspetta uno dei generatori. Se non la sediamo e lo rispegne anche l'altro, non la sediamo. Perfetto! 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 La mia mira è buona perché il mio occhio è il profeta. Pagatelo! Giuite! Pericurata! Non è solo me! In seguito! Fatelo muovere! Ti ammazzo! Ammigliatelo! Ti ammazzo! Ti ammazzo! Piazzola secco! È scappato! Andate con il nostro! Quanto sa... Uccinatelo! Tori canibone! Uccinate lì! Entrate la te... Non vai da nessuna parte! Basta così! Oh! Oh! Ah! 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 Non... Aspetta un altro tifone che sta alzato! Elizabeth, arrivo subito! Ci penso io. È tutto ok. Ok, ora sistemo tutto. Sei pronta? Ecco. Dammi una mano qui. Che cos'è? Leggilo e basta. Il tuo sogno su New York sia vera. E sono io che... che... Ci ha dato un modo per superare Songbird. Troveremo un dirigibile e ce ne andremo. Parigi. Elizabeth. Ricorda, volevi andare a... Ce ne andremo. Dobbiamo trovare Comstock. Perché? Hai visto in cosa mi trasforma. Non glielo permetterò. E allora che fai? Vuoi ammazzarlo? Ora vuoi farmi la predica, Booker? Dimentichi che... che ti conosco. Non lascerò che tu lo uccida. Davvero, Booker? E cosa intendi fare per fermarmi? Niente di niente. Perché lo ammazzerò io per te. Bene. Ora troviamo il profeta. Il dirigibile di Comstock è fuori. End of the Prophet lo chiama. E come fai a saperlo? Sono qui da un po'. Da quanto? Abbastanza. Spero che Comstock abbia ottenuto ciò che vuole da me. Perché non ha molto tempo per usarlo. Ho una serratura da aprire. Ok. Fatto. Ottimo. È chiusa. Dammi un secondo. Tutto fatto. Non ha alcun senso. Tutto quanto qui ha un codice che riesco a capire, eccetto questo simbolo. È una... una gabbia. Ti ha detto nulla a riguardo? No. Tutto quanto qui ha un codice che ha una copia. Grazie a tutti. Grazie. 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 Oh, The Wit. Ti affanni contro la profezia come una pietra lanciata da una fionda. Che entusiasmo nel lancio. Che apice mozzafiato. E che terrificante discesa mentre la gravità ti trascina verso l'inevitabile. Ecco qua. In tante pericolosi, pericolosi riprendi. Cos'è questo suono? Oh, guarda! Al riparo! Saremo colpi a vuoto. Non sono a vuoto. Sono... Guardati intorno, Elisabeth. Ho creato tutto questo per te. Sei la mia erede, sangue del mio sangue. Cos'ha fatto The Wit per te? Per lui non sei che un mezzo per raggiungere uno scopo. Il Signore giudica Dio Magistro. La mia opera è buona, perché il mio occhio è del tropeño. Non esco più不到 di mira. Cos'è l'avventura? È l'uomo di due potenti più far piede del progetto. Munizioni, al volo! La pietà a far piede del Signore. Vendi questo! Va bene così. Suoco! La mia pietra è buona. È tutto ciò che ho adesso. Per il mio occhio e il mio profeta. Per la patria! Deton! Suite! Perché la morte non ha un gillione. Il Signore giudica. Io agisco. Sto giocciando! Questa è colpa tua! La mettetelo all'angolo! Qu'è la suaántita? Questa! 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 fallo adesso ti strappo il cuore per colombia buco guarda una navetta che può portarci al land of the prophet a 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 o i a a Tutto fatto. Dai un'occhiata a questa serratura. Nessun problema. Tutta tua. Mio fratello mi ha posto un ultimatum. Se non rimandiamo la ragazza dove l'abbiamo presa, dovremo dividerci. Dove lui vede una pagina vuota, io vedo R'Elier. Ma è mio fratello. Quindi io farò la mia parte. Pur sapendo che finirà tutto in lacrime. Ok. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.